Pranto, 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 è che impazzito, pranto. Pranto, 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 è ripranto, lascio così, lo scopriremo se sente bene o no, non lo so. Ok, ci ho messo un po' perché ho installato il programma, ho ristallato la scheda grafica e tutto e non funziona più niente. Strano, e non ho aperto neanche il programma, lol. Salve, boss. Where are you? Ci ho messo un po' più che altro perché non mi installava più il programma. Cioè, il programma per farla live è venire impazzito, anche il microfono è impazzito, è impazzito tutto, anche la telecamera flickerava che era un piacere. Adesso sono riuscito a farla fermare, non sta funzionando, è bloccata la telecamera. Cioè, voi vedete la pagina, io sto passando la mano sotto la telecamera, non c'è. Dio Non funzionasse perché l'immagine c'era, ma invece l'immagine era ferma. No, si blocca. Ora sto passando la mano. Mamma mia che nervio! Il libro si ci mettono anche in mezzo. Buoni. Ma me la sono cercata io perché ho ristallato la scheda grafica. Ma sì. Cioè, se la metto qui, sull'USB 2.0, flickera. C'è Massi. Flickera ma va. Lasciamo qua. Però fa sta roba. Impazzisce ogni tanto, che non si sa per quale motivo lo fa. Provate a installare i driver, non me li fa installare. No, vediamo se flickerà tanto. Il microfono ieri è impazzito, non mi prendeva il coso. Quindi non so se sente altro. No, qua continua a flickerare. Porca di quella p***a. Sempre per la 5. Sto provando tutto l'USB diverso. No, c'è il libro. Il libro è da bruciare, ok. Questa sembra quella che soffre di meno. La telecamera è la stessa, il cavo è lo stesso, tutto uguale. Perché ogni tanto impazzisce, vabbè. Niente, unità 2. Niente, la telecamera se ne va per i fatti sua. Infatti è già dalle 9 e mezza che sto tentando di partire. Non riesco. Unità 2. Check no shikate. Il modo di fare i check. Check. Boss, ma posso dirti una cosa? Sì, puoi dirmi tutto quello che vuoi. Check no shikata. Dai. Modo di fare il check. La telecamera lì in basso non serve. Sì, che non serve, ok. Ma almeno vedete che cosa sto leggendo. Sennò dice questo si inventa le scritte. Mamma mia, che nervi, che nervi. Un po' piccolo da leggere. Sì, ma non l'ho messa per leggerla. Serve per vedere Tora. Esatto, serve per vedere Tora. Digliere. Guardate che bello questo. Poi manco ci fosse attaccato chissà che cosa. Che impazzesco. Per me è L. X-D. Aspetta, proviamo un'altra roba. Allora. X-D. Sono un secondo a fare un'altra cosa. Proviamo a prendere la telecamera. Non penso che cambi, perché comunque il cavo è sempre lo stesso. Però ci proviamo lo stesso. Al posto di usarla da qui, la usiamo. Adesso, aspettate che tolgo anche la telecamera da qua. Ehm. La telecamera è usata da qualcun altro. Ma non sta funzionando. Io veramente ce l'ho a testa in giù. Riavvia la sorgente, riavvia la videocamera e tutte le applicazioni che la stanno usando. Sì, no. Si vede come prima, una schifezza. Sì. E' un buccio tutto. Non sembra che flicchera. So già che appena mi muovo flicchera, però. Nel momento sembra che non flicchera. Finché non flicchera siamo tutti felici. Ok. Come si fa del check? Qua c'è un lungo discorso. Mentre facciamo l'esercizio di provare a leggerlo. Ah, l'ultima insuitation. Cioè qua parla di quello che pensa, cioè quello che scrive e parla del tema. Jijitsu, la verità, se insume la spiegazione del pensiero e che cosa prova. Bisogna farlo all'interno del tempo dell'esame. e quindi vabbè, impariamo la tecnica per farla. All'inizio dice la domanda, di solito sono queste domande qua. Shizumo, le domande. Shizumo, va. Naturalmente non sono le domande, ma lui mette di solito le domande più che si trovano di più sono Bunciu, che è all'interno della scritta, all'interno dell'articolo. No, Yogen. Yogen è il modo di dire. Ga, to, yu, yimi. Significato. Yimi, de, etu, ka, wa, re, te, iru, ka. Il modo viene usato, il modo di parlare, il significato del modo di dire all'interno del discorso. Su, ka, wa, re, te. Io sto per bestemmiare, mi sto trattenendo, ma sto per bestemmiare. Voi non lo vedete, ma vi sto trattenendo. Allora, se lo metto da un'altra parte, funziona la telecamera, ma il microfono impazzisce. Allora. a parte che è tutto appannato. e cliccherà lo stesso anche qua. sono molto contento. Due. Isha no itai koto wa nanika. Quello che scrive cosa vuole dire? Isha no itai koto wa nanika. Che cos'è che vuole dire quello che sta scrivendo? Tre. Isha. Isha ga sono yoni. Kanga eru. Ryu. Perché la pensa così? Kanga eru. Kanga eru. Ryu. Perché la pensa in quel modo? Ryu wa nanika. Quattro. Bun nonaio. All'interno del discorso. Minchè mi sta venendo un nervoso, giuro. Mi sta venendo. Ce l'ho già da Eildale. No, perché lancio parole. E mi sentito. A Teiru. Quello che c'entra. Le cose che c'entrano e quelle che non c'entrano. Non potrò mai fare perché non ho la cosa in italiano. A Teiru. E che combaciano e che non combaciano. Cioè che c'entrano e che non c'entrano. A Teiru. A Teiru. Mono. Qua. Dore. Quali sono? Dore. Ciao. Mi sentito che sia le domande più trovate. Infatti c'è scritto sotto. Queste sono le domande più trovate. Sagast e Sluca. Amundai. Se cerchiamo le parti dove. Cercando. Cercando. C'è un po' anche a scrivere. Cercando. Cercando. Le parti dove. Lo scrittore. Parla. Di quello. Che pensa. Sarà. La chiave. Per risolvere. Le domande. Ok. Poi qua fa il discorso. Nello. Io lo scrivo. Sarebbe da leggere in dieci minuti ma. Io lo scrivo. Lo sto scrivendo quindi. Viate pietà di me. Anaste. Morawanai. Devo parlarne. Anaste. Morawanai. Poi non ci sono le domande. È un discorso così. E poi. Lui fa i check e ve li faccio dove li fa lui. O. Kotou. Daigaku. Daigaku. De. Questo non lo so. I tai. Già iniziamo con la prima cosa che non so. E kan. Kanjiro. Kanjiro. Kan. Sta. Rei. Questo è un esempio che mi ha fatto male. Nella scuola. All'università. Ga. Da parte. Konobu. Sotema. Ninaru. Anaste. Morawanai. Do you koto ka. Vediamo questa forno qua. Più che altro. Vabbè. Rei. Quello. Esempio. Voglio fare un esempio di quello che. Di una cosa che mi ha fatto male a scuola. Adesso lo cerco. No. Tsukane. Scusate. Ma con Tsukane cos'è? Non mi esce. Tsukane. Tsukane solo sì. Che mi ha colpito. Io pensavo mi ha ferito. Dal kanji perché c'è quello di Tami più kanjiro. Stiamo con le parole che sono una. Inghilterra. Poi. Ah. Che è rimasto. Ighilterra. Ighilterra. Non so cos'è. Ighilterra. Inghilterra. No. BBC. BBC. Non so cosa sia. Oso. Oso è trasmettere. Oso. Oso. Ga. Oh mio Dio. Seisa. Sosa. Seisa. Mi sembra seisa. Non è seisa. Invece sì. Invece no. Invece sì. Invece no. Invece sì. Invece no. Non esce. Dovrebbe essere Seido. È quello di Seido. L'altro è Tsukuru. Tsukuru. Un'altra parola che non so. Virgola. Per il senso la sto scrivendo ma non lo so. Aru. Fufu. Fufu è marito e moglie. No. Ninshin. Ninshin è essere incinta. Ninshin karà. Tsusan è partorire. Shusan è made. O. Shosai. Questo non me lo ricordo mai. Shosai. Ni. Ota. 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 Documentari. Documentari. Prima di te gli ha fatto vedere un documentario di. Di. Che si chiama. Di una parte che non ci sto. E niente. Non ci sto. Documentari. Lo devo scrivere sotto. Documentari. Non so perché rosso. Bangumi. Un programma. Programma. Bangumi. Un documentario. Un programma televisivo. Genitori. Da quando l'ha messa incinta. A quando l'ha fatto nascere. Allegria. Questo penso che sia il nome della scuola. Kitasato. Kitasato. Perché non ho una traduzione. Daigaku. E poi c'è scritto Daigaku dopo. Daigaku. Questo non lo so. Yaku. E' Yaku questo. No. Che si chiama? Yaku. Kusuri. Kusuri. Gakubo. Medicina. No. Non è medicina. Farmacia. Oh. Farmaceutica. Ok. Farmaceutica. E però si pronuncia. Yaku. Io ho scritto Yaku con l'A che invece Yaku con l'A che si non cambia. Non ho scritto. Yaku. Yaku Gaku. Dipartimento Farmologia. Come cazzo si dice? Farmaceutica. Farmaceutica. E non so che. Ok. Qua non è tutto rosso. Adesso lo tolgo. Rosso. L'unica parola rossa è questa. Perché dice di fare attenzione a sta parola qua. Però è Ninshin. Sì. Ninshin. Fare attenzione a sta roba buona. Dopo ci spiegherà il perché. Forse. No. Gakse. No. Gakse. Ni. Mi. 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 io ti dico che schifo allora documentari non c'entra niente il rosso era rosso non si sa per quale motivo poi vabbè qua abbiamo imparato che Yakugakubu ma perché mi scrive tutto il rosso abbiamo anche il rosso che ci insegue tanto non funziona niente dici anche quello giusto che non vada Yakugakubu e poi ho provato a cercare i driver della C920 ma naturalmente ti mettono installano un sacco di programmi inutili e non ti mettono i driver del coso quindi non so come fare Yakugakubu Toyunowa si dice cioè all'interno del dipartimento di farmaceutica Shoujo che sono le ragazze Shoujo penso no Onnanoko Shou Joshi che pirla Joshi le ragazze Rokuwari che significa 60% non so come si pronuncia Tò Joshi Noga che sono più femmine 60% di più non è che me lo devi dire di più Joshi Noga O ci sono più ragazze bello mi piace la squadra ci sono più ragazze però questo Tsuyoi non lo so non esce Mako il kanji di Tsuyoi cioè tipo Rokuwari e il kanji di Tsuyoi Wari-kyo non mi esce neanche nel nel dizionario o sono stronzo io no è quello il kanji è quello non mi esce sul dizionario sta roba eh mette Rokuwari e il kanji di Tsuyoi Rokuwari-kyo eh ma non mi esce ma cercato non mi esce Rokuwari-kyo già denai Rokuwari-kyo Rokuwari-kyo ok che cose strane me le segno tutte anche ce le segno per me allora eh so you eh so you ba de in quel posto so you ba so so you ba de eh cono bangumi questa trasmissione bangumi eh no eh canso in modo di cioè di di reagire a questa a questa eh trasmissione o ga kuse ga kuse ni eh shimeta shimeta o motome eh motome 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 eh che che il risultato di quello che hanno provato guardando questo fantastico trasmissione i jo ni o moshiro kata è stato i jo ni o moshiro kata è stata molto eh interessante o divertente però penso interessante o moshiro kata perché significa due cose diverse punto eh qua questo è lo segna i jo ni che dovrebbe essere più che eh più che normale di più premamente vediamo cosa esce i jo ni si estremamente i jo ni o moshiro kata eh da da dan dan shi dan shi che sono i mascoli dan shi dan shi gaxe o jose gaxe le studentesse maschi cioè gli studenti maschi e le studentesse femmine joshi joshi non riesco a scrivere joshi joshi gaxe to de vai maschi e le femmine facciamo prima akiri akiri è per bene to kotonaru è differenza kotonaru anno reazione diversa anno anno ga deta no des sono usciti delle 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 differenze ben chiare tra i maschi e le femmine puntos video omita joshi gaxe no otondo a la maggior parte delle delle studentesse che ha guardato questo fantastico video prima diceva bangumi poi ha detto prima documentario poi bangumi e parla sempre la stessa cosa omita gio joshi che non riesco mai a scriverlo joshi gaxe no otondo otondo è la maggior parte otondo qua non mi sa che non c'è tayen tayen ben chioni narimashita è stato di grande di grande come si dice studio narimashita mi ha insegnato molto appunto atarashi nuove cose atarashi akken ho scoperto nuove cose akenga qua scrive taksan con i kanji che io non ho mai visto infatti me lo scrivo anch'io taksan arimashita sono tante cose che ho scoperto nuove taksan il kanji non l'ho mai usato neanch'io di solito uso taksan senza kanji adesso ho imparato anche il kanji di taksan sempre impara sempre qualcosa di nuvo poi e qua devo segnare lui ha segnato akkiri e basta ma poi mi ha segnato una fama allora come faccio a segnare vabbè prendo le parole in rosso e perché lui le parole in rosso poi le spiega quindi io prenderò poi le parole in rosso e mi metto quello che spiega lui poi ipo 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 io ho scritto ipo e niente non so scrivere ipo 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 sore ni tai ste danji danji sono i mascoli gakuse 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 wa mina mina e tutti detto malissimo poi non so se si dice ipo ipo ni con nakoto dovrebbe essere tutti insieme dovrebbe essere tutti uguali i mascoli di tutti tutti allo stesso modo tutti allo stesso modo tutti insieme tutti allo stesso modo e hanno detto che schifo dove cacchio è kon nakoto questo tipo di cosa kon nakoto kon nakoto oh mio dio dovrebbe essere sunenin se non dico una stronzata no non è sunenin oh mio dio lo so 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 ma non mi viene in mente cacchio questo lo so non è mune non è mune non è yakuni non mi viene in mente lo so ma non mi viene in mente lo so ma non lo so quanto pare lo so ma non me lo ricordo dov'è un po' che ho perso ovviamente non preso tutto tranne con la parola su deni cioè che significa che già la sa su deni su deni no su deni oh che no giuglio dalle lezioni lo sa già giuglio de citte iru yon kotobakari da lo sapeva già dalle lezioni di questo qua non lo so ok dalle lezioni di igiene ok su deni che lo sapeva già ma scusa io prima ah ho scritto su deni ho scritto al posto di su deni orrei di sì che lo sa già il significato lo sapevo ma non mi ricordo la pronuncia vai scriviamo tutte e due su deni su deni su deni già sapeva già e l'altro invece è Okan che è igiene o kanji che non conosco sì c'è qualche kanji in più ma almeno questo scrive quei kanji gli altri scrivono senza kanji non si capisce un cacchio ci si può dire anche su deni mamma sentite io di solito uso su deni igiene cura di se stessi mettiamo igiene nelle lezioni di igiene esistono le lezioni di igiene Marco Okan cos'è? se farei lezioni di igiene Okan no Giuglio lezioni della salute igiene e salute mettiamo tutto qui eh sì ma non so come dirlo comunque quella roba lì eh sì so che c'è ma non mi viene più la parola sì eh ho capito ho capito però non so come si dice tocca ok è quel problema so cos'è ma non so come dirlo Kotai Kotai Toyu Kotai tutti mi hanno risposto allo stesso modo che lo sanno già dalle lezioni di igiene o salute o come cacchio si chiama che non mi viene venuto o nagimo no la stessa cosa o nagimo no o mi temo anche se vedo la stessa cosa eh se i antai se i antai se i antai to i temo anche se dice il contrario i temo ioi eh curai no no eh non ci starà mai beh niente ditemi se sentite quello che sta suonando la tromba perché la deve suonare adesso eh curai no ringraziamo che gliel'ha regalata no eh cigai differenza ga de de te chita no des e non ci sto oltre curai no ci insegnano a pulirci il sedere no gli stanno facendo vedere come si chiama eh quella gente che partorisce in video i ragazzi rispondono io queste cose le so già dalle lezioni di igiene o di educazione eh della salute come cacchio si chiama e invece le ragazze ha imparato qualcosa di nuovo anche se anche se vedono le la stessa cosa dicono il contrario no se i antai to i temo ioi curai no ci ga e ga dite chita qua ha segnato un agimo no la stessa cosa vedono la stessa cosa mi temo se i antai è cose belle in questo canale completamente il contrario se i antai l'opposto esatto esatto dicono l'opposto esatto a uno dice interessante dice non me ne frega niente perché c'è le femmine di cui mi interessa e gli altri no c'è le femmine di cui mi interessa non so un numero corewa ittai invece lo so ittai do you do you koto nano de show questo cosa significherà questo questo lo segna corewa ittai quello mette con altri segni o li segno tutti in rosso perché sennò divento scemo lui li segna in modo diverso poi li prendiamo tutti quelli uguali li mettiamo insieme e faccio la scritta corewa ittai do you koto nano de show questo cosa significherà onaji onaji dai gaku la stessa università no onaji onaji gaku bu onaji gaku bu la stessa sezione buongiorno ho 50 che di punti brava evo dello stesso dipartimento des des non so cosa significa intanto mako mi tira le sportellate cara virgola non lo so perché non c'è solo che mi stai colpendo a me che non c'entro niente su kunaktemo su kunaktemo questo è questa è una parola che non la segna anche lui enza shiteki che non so mai sentite in vita mia la segna anche lui come stai attendo sì ma dovrebbe essere differenza qualche angi differenza sì mako figa beh metti pure tu già ci si mette il libro ciao mami san ciao mami san ti dice ciao mami san quello che ho comprato è iva non so che tanto ha comprato la roba l'ha messa nei cassetti non la trova non so neanche se l'ha messa nel cassetto la sta cercando nel cassetto qua di fianco a me mentre faccio la live per rompere le balle però non sa se nel cassetto shiteki è stato il correttore xd non è questo shiteki scusate shiteki qua dico sempre shi invece shi ok shiteki shiteki reberu reberu reberoni questo è dangyo maschio e femmina suru no dangyo sa questa è la differenza la differenza tra maschio e femmina mui non riesco a scrivere mui non me lo mette non me lo mette mu hum gumboni everybody no me lo scrive così non so perché me lo scrive ah nai perché è scritto nai scusate lo scrive così perché questo è nai non è mui e nai punto da tostarà da omako tostarà ti salutano tutti non so se la sentite vi sta salutando ma c'è quello che suona la tromba good morning ti ha risposto good morning non si sente bene qua perché c'è uno che suona la tromba davanti a casa nostra quindi mi sto ripetendo ciao riusaki1993 da tostarà dokokara da dove dokokara con lochigai ga dovrebbe essere shojiro mamma mia la beccata da dove nasce questa differenza tra maschio e femmine questo qua lo cerchiamo ma non devo sbagliare niente non c'è la domanda è solo una spiegazione valore standard significa questo qua è in saci significa valore standard non c'è una differenza tra maschio e femmina di un livello intellettuale di valutazione standard significa questo si oh hai rotto il cazzo scusa ve lo faccio sentire perché oggi tutti a me stanno capitando sentita smesso adesso che volevo far sentire smesso sensei non sia scurrile eh c'è questo che mi suona la tromba sotto la finestra figlia non si ascolta aspetta sentite c'è anche un altro fuori che gli sta urlando ma che bravo hai rotto il cazzo capì che sotto la finestra della gente va a suonare la tromba va a suonare a casa tua la tromba niente insisto non so se si sente sta suonando bella ciao con la tromba non lo prende il microfono strano il mio microfono registra tutto tranne questo che suona la tromba voi lo sentite? non si sente eh no vedo che non si sente no ieri si sentiva tutto questo microfono registrava tutto adesso non registra più niente vabbè è meglio così comunque si sente cioè nel senso voi non lo sentite ma io lo sento ok sì Marco c'è gente che ha i problemi vedi mi sta facendo venire a me i problemi non lo so comunque gli ha detto delle parole che non posso ripetere in live niente insiste sì Marco sarà Ennaito? beh hanno rotto i coglioni sì Ennaito allora può fare quello che vuole ma ecco dimmi dimmi Ensa Ensa Citechi cos'è valutazione media la valutazione media dell'intelligenza non c'è una differenza tra il maschio e la femmina perché c'è scritto così valutazione standard scusa standard ah non è sul dizionario aspetta figa sul dizionario c'è scritto valutazione standard la valutazione non c'è la differenza di valutazione tra i cervelli cioè tra l'intelligenza dei maschi e delle femmine e quindi perché è nata questa differenza non lo sappiamo mai da dove è nata questa differenza? sono Kotaewa? questa risposta sono Kotaewa perché alle femmine gli piace e i ragazzi ti dicono non me ne può fregare di meno dalle informazioni che abbiamo preso quel che riguarda le informazioni prese non è vero non è Osei questo com'è che si dice? è Sugata più Osei perchè i maschi non partoriscono? potrebbe essere la risposta però loro dicono che sanno già quello che hanno visto Mondaida virgola Toyukotodes Toyukotodes questo qua è quello di Sugata che però adesso non so come si conosce Shisei postura posizione attitudine questo qua è anche posizione però penso che sia approccio attitudine è un problema di approccio si è un problema di approccio comunque significa anche Shisei postura Shisei approccio o postura o postura qua in questo caso è approccio non è postura è un problema di approccio è di affrontare la cosa allora Yosuruni Yosuruni non me lo ricordo più la cosa importante Yosuruni e otoko otoko insomma diciamo otoko Ninsuite Jikan Jikan o Mochitakunai non vogliono avere un'esperienza personale sul sul fatto di partorire o così c'è scritto Mochitakunai 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 sì Onagi video lo stesso video oh mi temo anche se vedo lo stesso video mille volte non cambia niente Joshi che sono le ragazze le ragazze serie Noyona Aken Ga Dekinakata non hanno trovato cose nuove come le hanno trovate le femmine perché per loro è sempre stessa Dekinakata punto virgola non era punto Mushiro questo dovrebbe essere Sekyokuteki 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 Ni Aken Oshio non hanno cercato di trovare qualcosa positivamente Shioto Shinakata in altre parole Mushiro in altre parole non hanno cercato cioè non hanno cercato positivamente qualcosa di trovare qualcosa di nuovo Shinakata Toyu Koton Dess sempre Dess Mushiro lo devo segnare Sono Kotae Sono Kotae Wa e Mushiro Poi abbiamo Tsumari Tsumari è in altre parole Tsumari Jibun e se stesso vedo la telecamera che flickera mo sto flickerando io Jibun dopo devo trovare i driver qualcosa non so cosa che è Ottimo Sto contagiando anche Eve ho preso bravo unicorno e arcobaleni così si fa Jibun Ga Shiritaku Naiko Tony Tzuite riguardo alle cose che non vuoi sapere Tzuite wa Jishutechi io odio invece gli avverbi Jishutechi non è così no G poi ho sbagliato qualcosa con uno solo Jishutechi 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 Ni questa parola non so Shadan Shte Shadan è chiudersi Shte Shimate Shimate Dovrebbe essere chiudersi però il Kanji non l'ho mai visto infatti lui dice stai attento a sta parola grazie ma se non la so Shadan Shte Shimate Si chiudono praticamente tirano giù la seranda Isolare Bloccare Quarantena Recensione Shte Shimate Allora devo cercare questo dovrebbe essere propria esperienza di vivere in teoria indipendenza autonomo A meglio Si bonga si ritagano ai cotode e automaticamente si chiudono alle informazioni delle cose che non vogliono sapere Shadan bloccare cioè dovrebbe essere quarantena ma in questo caso è bloccare Shadan bloccare o chiudere no e l'altro è indipendente indipendente da sè indipendente da sè indipendente da sè indipendente da sè chi fa da sè fa per tre quindi così se no metto mille significati non si capisce più niente si chiudono come le cozze coconi coconi kabe ga sonzai steimase qui si crea un muro coconi kabe ga sonzai sonzai esistere steimase qui compare il bel muro ecco e corremò anche questo corremò i cirui i cirui no e i cirui i i i i i i mi auguri fa schifo no dovrebbe essere il cirui per forza invece mi esce no ma non è lui è ishu fuori di testa ishu no questo qua è un tipo di Baka no Kabe, il muro degli scemi, Baka no Kabe, il muro dei dementi, Dess, bello Dess scritto così, punto, da questo episodio, Cono Episodo, non riesco più a scrivere, Cono Episodo, mi sta venendo nervoso perché vedo la telecamera flickerare ogni due secondi e mi viene nervoso, Episodo, qua, Mono, no, Migotoni, Ningen, Migotoni, Ningen, Wagamama, chi pensa da sé fa per tre, Ningen, no, Wagamama, Wagamama è egoista, Egoista, Katte, Wagamama, Katte, Katte non è comprare mai, Katte è questo che si fa da sé fa per tre, Katte sa o Shimeshteru, mostra solo il... Non ci sto, mostra solo l'egoismo delle persone, questo episodio mostra solo l'egoismo delle persone, dell'essere umano, non delle persone. Allora, onagi video, lo stesso video, ma basta, hai rotto le balle, tu e il tuo video, onagi, onagi video, onagi video, oh, iscioni, in tutti insieme, con mille s, iscioni, insieme, limite, mo, anche se guardiamo lo stesso video, tutti insieme, lo hacker che bontà, Danshi, i masculi, Danshi, Danshiwa, quello continua a suonare, ormai adesso gli faccio fare un disco, Zembo, Citeru, conosco tutto, vai tranquillo bro, che non gliene frega un cazzo, Toi, continuano a dire che sanno tutto, Magari anche alle ragazze non gliene frega niente, ma devono far finta di essere interessate, Joshi, Joshua, Diteru, sì, vabbè, Deiteru, vogliono sapere anche i dettagli, sì, Deiteru, Madè, Mite, guardano anche i dettagli, anche qua ha scritto, ha scritto Diteru, ha scritto Shosai, ha scritto un'altra parola, che sono tutti i dettagli, l'ha scritto in modo diverso, per non scriverlo con la stessa parola, ha cambiato, ha scritto un po' in katakana, un po' in iragana, un po' come voleva lui, Atarashi, Atarashi, Atken, trovano nuove scoperte, ho capito una nuova cosa, Toiu, magari mentono, punto, Akiraka, Akiraka, Ni, Danshiwa, Danshiwa, i maschi, chiaramente non gliene può fregare niente, Fa anche rima, Aete, Saibu, cos'è Saibu? Aete, non so cos'è Saibu, non ho mai sentito, ah, Saibu e dettagli, è un altro modo per dire dettagli, perché questo è quello il kanji di Komakai, Prima ha scritto Shosai, che è sempre dettaglio, e poi ha scritto detail, ha scritto praticamente in cinque modi diversi dettagli, Ai maschi dei dettagli non gliene può fregare niente, Aete, Saibu, questo me lo devo scrivere, Nime, Otsuboe, hanno chiuso gli occhi, cioè hanno chiuso gli occhi per i dettagli, ma se non gliene frega niente, non è che hanno chiuso gli occhi, non gliene frega semplicemente, è un cazzo. Son, Son no, quella cosa, la so, Shite, Mastayo, la so, Bro, Bro forse non c'era, però tanto ormai traducono tutti quel Q, Itte, Iru, Dake, Nanodes, dicono solo che sanno già tutto, non c'è problema, Bro, anche i dettagli, Saibu, Dettaglio, Se gli ho qui i dettagli, Saibu, Dettaglio, Saibu, Dettaglio, Particolarità, caratteristica, Mako chiede cos'è Saibu, lo chiedi a me, è giapponese, Dettagli particolari, Anche i particolari, Non ce ne frega niente, Poglio, Avverbio, Sì, Fukushi, No, aspetta, sì, Fukushi è avverbio, Doxxi è verbo, Emeishi è nome, Comunque adesso Facciamo tutte quelle robe lì, Ci spiega queste cose qua, Penso, Watashi tachiga, Noi, Siamo ragazzi, Oggi noi, Watashi tachiga, Watashi tachiga, Noi, Igoro, Onichigoro, Dovrebbe essere Igoro, Onichigoro, No, questo lo sbaglio sempre, Igoro, Anhi, Facilmente, Noi nella vita di tutti i giorni, Diciamo sempre, Lo so, Shiteiro, To, To, You, Aspetta, No, Jittai, Jittai è situazione, Wa, Jitsua in verità, Sonna, Sostantivo per me, Sonna, Cotto, Eh, Non è nome, Mesh, Se è uguale, Sostantivo non so cosa, Sonna, Cotto, No, Sonna, Teido, Scusate, Sonna, Teido, Non ho capito, Noi, Diciamo sempre, Facilmente, Che abbiamo avuto esperienza, Ma in verità, Non ha teido, Non ha teido, Non ha, Boh, Che non è così, Teido è, In qualche modo, Ah, Ma è una cosa approssimativa, È una cosa approssimativa, Infatti, Ma è una cosa, Ma in verità è approssimativo, Che non sai, Non conosci niente, Che pensi di sapere, Comunque il titolo del libro è, Baka no Kabe, Il muro degli scemi, Allora, Qua ha detto di stare attenti, Vabbè, Ninshi, Vabbè, Che è uno incinta, Abbiamo capito, L'altro è, Ensa Chi, Gakuryoku, Ensa, No, Yokohu no Itotsude, Shiken, È un modo per dare i valori alle persone, Cioè, Per valutare, Praticamente, Cos'è che ho scritto qua? Valutazione, Ok, Sì, Sì, Se sei intelligente o no, Shadan, Monoga, Ugoku, Nagare, Ok, Kiru, Cioè, Bloccare, Sì, Fare un muro, Bloccare, Cioè, Prima di fare i check, Onbu, Yon, Maini, Prima di, Allora, Qua dice, Cioè, Ireru, Maini, Prima di fare il check, O di fare segni sul, Allora, Cioè, Io vi scrivo quello che c'è scritto qua, Non è quello che penso io, O, Ireru, No, Io sono studiido, Maini, No, Io sono studiido, Anch'io sono studiato, Uno, Onbu, O, Prima di legge, Prima, Quello ve lo scrivo in italiano, Prima di leggere il testo, Più o meno, Mondai, Bun, Karayomi, Leggi le domande, Qua sono le cose che ha detto anche ieri, Leggi le domande, Nanika, Tovare, Teiru, E, Memorizza, Cosa chiedono le domande, Cosa chiedono le domande, Naturalmente, Punto, Mondai, Sintakushi, De, Tsukaware, Teru, Kotobaga, Onbundo, Koniaru, Sagasu, Chiedo, Punto, Cerca, Cerca, All'interno, Cerca nel testo, Fatemi scrivere nel testo, Le parole, Che vengono, Usate, Nelle domande, Ok, Questa è la prima cosa, Poi, Due, No, Qua dice uno, Due, Di check però, Due, Saisho è la prima volta, La prima volta, Saisho, All'inizio, Non ho capito, Leggi l'inizio e la fine, Ma, Ve lo scrivo come è scritto, Leggi, L'inizio, E la fine, Ok, Solo i primi due, La parte iniziale, La parte finale, Ecco, Dice così, Molte volte, Punto, Molte volte, Molte volte, Viene, Scritto, L'origine, Cioè l'inizio, L'origine, E la, E la, Conclusione, Molte volte, Ma è sempre così, E la conclusione, Punto, Bunshu, Nonagare, Tsukami, Tsukami, Sarà più facile, Capire il discorso, E, Renderà, Non so scrivere in italiano, Quindi non rompete i maroni, Renderà, Facile, Capire, Il discorso, Ok, Poi abbiamo, Check il report, Come, Come fare i check, Come, Prima, Dovrebbe essere, Prima di evidenziare, Prima di, Evidenziare, Vossi, Quindi sarà sempre nel mezzo, Esatto, La risposta sarà sempre dall'altra parte, Poi qua dice, Check il rerun point, Come fare i check, Check il rerun point, Point, Come fare i check, Come evidenziare, Come fare i check, Allora, Uno, Beh, Questo è importante, Uno, Iken, Che è quello che pensa, Allora, Mo, 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 Di, Di, Mostrare, Pensiero, Mai, A questi leggi nel pensiero, Devi ragionare le trollarie, Eh, Lo so, Però poi alla fine, Comunque ieri, Non so se c'eri, Quando ho fatto l'altra parte, Diceva, Smettila di pensare, A quello che è logico per te, E leggi il testo, Che è quello che faccio io, Per me è logico quella cosa, Però per il libro non la è, Perché lui dice un'altra roba, Infatti lui dice, Non devi rispondere con quello che pensi tu, Devi rispondere, Quello che c'è scritto nel libro, Cioè anche se per me è sbagliato, Però per il libro è giusto, Che è quello che sbaglio sempre io, Allora, Eh, A chi sorriderò, Se non a te, Ah, Abbiamo, Vai qua ve li scrivo, Bechi da, Allora, Ecco, Segniamo anche queste parole qua, Mi insegno anche questi, Che non li so, Non è che neanche, Ah, Ok, Non li so perché scrivo il cangio sbagliato, Bene, E questo, Affermazioni, Cotei e, Buongiorno a voi, Affermazioni e infasi, Se lo scrivo in italiano, Se non si capisco, Affermazione e infasi, Ok, Abbiamo, Bechi da, Che dovrebbe, Che significa, Dovrebbe essere così, Ma questo ve lo scrivo, Ciao, Queen, Bechi da, Questo ve lo scrivo, Ah, Queen, Dopo ti mando le misure, Non mi sono, Cioè, Mi sono scordato, Blanco 87, Bechi, Al momento è nel mio armadio, Il tuo coso, Ma se vieni a Milano, Me lo dice, Ci si vede a Milano, Ciao belli di casa, Sì che, Mako dice, Meglio che glielo porti, Perché si rovina, Poi, Ha fatto tutta la fatica, Poi taglialo bene, Esatto, Sì, Sì, Toiukotoda è così, Itsu yo, Garu, È necessario, Itsu yo, Cioè, Se trovate queste parole, Sono importanti, Itsu yo, Garu, È necessario, E, No boss, Le tue misure, Non le vogliamo sapere, Va bene, Vediamo la soluzione migliore, Ok, Dimmi tu, Nici Gainai, Non c'è dubbio, Ok, Questa qua, Affermazioni, Enfasi, Poi B, Punto, Abbiamo, Itei, Utaga, Itei è essere d'accordo, E Utaga, O non essere d'accordo, Utagao è avere dubbio, Itei dovrebbe essere essere d'accordo, Aspettate, O il contrario, Questo qua, No, Negazione, Negazione, Dubbio, Negazione, Allora, Ecco te, Ok, Boh, Non lo cerco, Scusate un secondo, Itei dovrebbe essere coté, No, Maco, Itei è il contrario, Qual è? Itei è sanse, Sì, Eh ma non c'è, Non era una tipo coté o qualcosa del genere? Ah coté, Ok, Giusto, Mancavano, Allora, Negazione, Dubbio, Wack de Wanai, Non è così, Wack de Wanai, Cos'è sono le parole che dovete segnare, Wack, A parte che nel discorso di prima, Le cose rosse non le ho scritte, Wack de Wanai, Adesso le scrivo, Finisco di scrivere con app, E scrivono con la roba, Wack de Wanai, Non è così, E, 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 Nai, Ci sto, Non la trovo, Non mi esce, Ok, Poi abbiamo, Nai, Nai no, Devo anai, K, Non sarà così, Vabbè, Sembra la stessa cosa, O soregaru, Ho paura che, O soregaru, Ho la paura che, Sei un cretino, Kamoshi Rinai, Che è il famoso, Potrebbe essere come potrebbe non essere, Kamoshi Rinai, Questo l'ho conosciuto anche voi, E, Kaninai non me lo ricordo, Potrebbe, Anche questo dovrebbe essere, Potrebbe essere, Kaninai, Eccetera, Eccetera, Kaninai dovrebbe essere sempre, Eccetera, Cioè potrebbe, Kaninai, Cioè anche Kagiri, Kaninai, Sì potrebbe, Sempre un altro modo di dire, Potrebbe essere, Poi C come ciccio, Mondai, Techi, Toikake, Non ho capito niente, Quel libro ha tradotto, Enfasi come stress, L'ha tradotto, Bene, Giusto, Direi che, Quello che ha fatto, La traduzione di questo libro, E' molto bravo, Mondai, Teichi, Toikake, E' molto bravo, Domanda, Domanda, Domande, 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 Quando ti poni delle domande, Do, Daroka, Sarà così, Do, Daroka, Poi abbiamo, De, 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 Non è così, Non è così, Non è così, Punto di domanda, Poi abbiamo, Nase, Daro, Perché è così, Nase, Qualcosa, Daroka, Perché sarà così, E poi abbiamo, Ittai, 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 Qualcosa, Blablabla, Dove vedete il segnetto, Perché c'è davanti o in mezzo, Ci deve essere qualcos'altro, Eccetera, 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 Ettai, Nado, Poi passa un'altra cosa, Nagarega, Wakaru, Setsuzoku, Setsuzoku è connessione, Fukushia, Verbi, Ok, Due, No, Non c'è il due, Sì c'è il due, E l'uno dov'è? Qua, Due, Ehm, Eccetera, 20 euro andata e ritorno, Basta per venire a Milan, Ma no, Non devi venire su per fare quella roba lì, Quando vieni su, Boh, Vedi tu, Cioè, Pensavo che dovevi già venire su per un'altra roba, Non c'è che sei lì, Te lo do, Almeno che non hai fretta di, Di leccare il tappeto, Allora, Ehm, Nope, Perché è da remoto? Dai da remoto, Pensavo che andavi lì, Com'è meglio per te? Setsuzoku yoga, Allora, Va, 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 Capire il discorso, Capire, Ehm, Ehm, Su, Ehm, Come si dice, Susseguire, Come si dice, Capire lo scorrere, Boh, Scorrere, Del discorso, Da, Congiunzioni, O avverbi, Avverbi, Avverbi con 7V e 8Q, Allora, Junsezzo dovrebbe essere, Sequenziale, Junsezzo, Adesso lo cerco, Ma dovrebbe essere sequenza, Jun, Ordine, Conspetto, L'ho scritto male, L'ho scritto malissimo, L'ho scritto giusto, Mi è riuscita un'altra parola, Non era questa, Congiunzione, Vabbè, Congiunzioni, 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 Abbiamo, Sostè, E poi, E poi, E poi, Dakarà, Quindi, Questi sono quelli che sapete anche voi, Mata, Ancora, Sorenì, Inoltre, Sarani è sempre inoltre, Svagate, Seguendo ciò, Eccetera, Eccetera, Poi gli altri, Non te ne mette, Ti fa qualche esempio, Non te ne mette tutti, Perché sennò stiamo qua a fine Natale, B, Ghiacusezu, Non sarebbe, Non è contraddizione, Come si dice? E niente, Non mi scrive più, Magari, È contraddizione, Io non voglio ammetterla, Paradosso, Cosa è un paradosso? Niko Yan, Che voleva la PS5, E Deni o Yan, Che voleva, Yan, Gli vuoi vendere la tua Playstation? Lo so già, Non si vende la Playstation, Che poi non puoi giocare con me, Paradosso, Ma, Eccetera, Eccetera, Shikashi, Ma, Tocoroga, Comunque, Tocoroga, Domani alle 16, Sono disponibili su GameStop, Ah, Ok, Ehm, Gli mando il messaggio, Ce l'hai io, O glielo mando io, Aspetta, Glielo mando io, Tanto il numero di telefono, Aspetta, Yan, 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 , Yan, 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 Queen dice dice PS5 disponibile nel sito GameStop dalle 16 11 maggio l'ho mandato poi abbiamo Tadashi soltanto Tadashi ovviamente che Ippo cos'è che significa non me lo ricordo cioè come lo usa Ippo Ippo in quel modo allora questo è cambia cambiare idea conclusione questo qua e qua mi mette sempre stress che non è stress ciò ciò chiò ciò vediamo chiò 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 infatti è sempre infatti io lo guardo un secondo per me è necessario dovrebbe essere io suruni in poche parole ok io suruni poi abbiamo Stagate che c'era anche prima e seguendo ciò Koso vabbè Koso c'è sempre Koso 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 Devanaku 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 non è così è Pomi Devanaku e Masani Masani eccetera eccetera vai Masani e basta esattamente o solo dipende dalla situazione poi dipende sempre dal contesto e qua vi dice le cose in generale ma poi queste parole cambiano in base al contesto qua è esempio esempi esempio uguale Tatoeba che lo sanno anche i muri Tatoeba che significa per esempio Tatoeba per esempio è Moshimo in caso fosse che eccetera eccetera in caso che Moshimo Moshimo se fosse ok dobbiamo scrivere chi guardo Kurikaeshi Dete Kuru Kotoba o Mondaibuni Dete Kuru Kotoba o Namisen o Ikun non ho capito un cazzo ah sì 3 le parole chiave parole chiave che sono quelle della domanda vengono ripetute parole chiave parole ripetute parole ripetute tipo è quello di prima dettagli parole ripetute e parole parole che escono nelle domande ok e sono da segnare e niente praticamente qua sopra prima che avevamo segnato in rosso ma non le ho scritte perché sono stronzo facciamo un po' di inserisci così così scriviamo quello che abbiamo fatto su inserisci perché l'ho fatto ma poi non l'ho scritto perché sono avanti inserisci pronto esempio poi poi io 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 allora abbiamo io ragioni isha no canso quello quello che prova si scrive poi abbiamo ancora inanimo no da akiri akiri e inanimo no è verità onajimo no scusate akiri e onajimo no mostrano jijitsu che è la verità qui mi lampeggia la telecamera cosa devo fare a parte le bestemmie akiri e verità most sì verità mostrano continuo a lampeggiare poi kore waitai e da solo e dokukara questa è una domanda kore waitai e dokukara è un'altra domanda e queste domande domanda kore waitai e dokukara sono le due domande questo qua rosso erano le parole quelle strane domande domande poi invece questo qua sono kotae e questa è la risposta sono kotae allora qua mette sono kotae no no non cancellarlo sono kotae quella risposta poi mette manca un pezzo no moushiro e tsumari moushiro in altre parole e tsumari tsumari non l'avevo segnato sono le quello che pensa tsumari quello che pensa si iscrive cambo eh lo so chi lampeggia ma il problema è che non capisco perché cioè ieri ho disinstallato ho rimesso dentro la 2060 perché quando gioco e faccio la live insieme fa fatica mi fa casino e quindi ho rimesso la 2060 per fare la live però in ogni buco che metto la webcam lampeggia dovrei ristallare i driver ma non me lo fa fare tsumari basta ok quindi abbiamo scritto le parole che sopra queste parole le assegnate perché mostrano queste cose qua ok sono sui cè che poi spiegava sotto che naturalmente l'ho fatto al contrario come solito però ve lo vedrete dritto poi andiamo avanti allora Toki Katano pointo come risolvere il problema 3 Toki Katano Toki Katano è come sciogliere la domanda Toki Katano che non è questo naturalmente Toki Katano non troverò mai no pointo come risolvere cioè come come rispondere da 1 a 3 da 1 a 3 che è quello che abbiamo detto prima fare tanti esercizi ma va da 1 a 3 fare tanti esercizi che è quello che faccio io ma poi non mi ricordo neanche come mi chiamo punto De Kireba se riesci se riesci se riesci io mi kaisanak temo secondo me devi salvare le cose importanti e reinstallare tutto da capo iniziando da Windows no no tu sei fuori non reinstallerò mai Windows sei fuori di testa completamente se solo ho messo una scheda e ne ho messo un'altra non mi funziona un programma già ho bestemmiato quel programma che non mi funzionava il microfono eccetera eccetera adesso è rimasta solo la telecamera impazzita non ci penso neanche ma neanche se piangono per me può flashare tutto il tempo il problema è che la lancio contro il muro perché ho provato a installare i driver ma naturalmente non esistono i driver ti fanno installare altri programmi assurdi per mettere i driver se riesci al massimo lo installo i driver e poi lo cancello se riesci anche se non sei in grado di leggere tutto devi capire i punti principali sì però i punti principali sono scritti con le parole che non si capiscono e quello è il problema io mi causo che su vaimo jibun no ceku no ruru narete ireba se sei in grado di segnare i punti principali segnare i punti principali non c'è bisogno non c'è bisogno comunque qui mi sono perso sono sceso in un posto dove devo saltare sulle tombe non so cosa devo fare infatti io ho fatto cose assurde che non sapevo cosa fare sto saltando sulle tombe sottoterra infatti ho detto fammi salvare perché qua finisce male non c'è bisogno di ma in che zona è sotto la città ci sono un sacco di persone morte perché non riesco ad andare avanti uno mi ha detto vai sottoterra e parla con le tre dita in teoria li ho trovati ma ho trovato la strada ma non ci sono ancora allora c'è bisogno di saper leggere ma devi mettere in ordine i punti ok ma stava non ha canisteri su e cioè devi memorizzare devi memorizzare ok poi due check 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 o ireru koto de konobunshu no okite maga anastemora wa nai kabe de arukoto ga wa karu facendo i check capisci di che cosa parla il discorso onaji jo ho atarete mo ok qua parla del libro di sopra isha no kohande kurikai cioè ripete più volte la stessa cosa ma attenzione perchè ti lega un finale quella scelta e la possibilità di annullarlo senza guida è bassissima e che quello che ha detto prima iosuruni eccetera eccetera aspetta lo scrivo aspetta 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 anastemo anà dove era la parte qua sotto è questa qua anastemo wa karanai anche se ne parlo non capiscono anastemo wa karanai e poi e allora non so dove devo andare sono arrivato alla forgia cioè ho ammazzato il gigante da lì non so dove andare cioè vedo che c'è una città ma non so dove devo andare c'è una parte in più nella neve ma non so come ci si arriva volevo cercare il passaggio per quello sono arrivato lì cioè c'è una parte in più ma io non riesco a arrivarci cioè dopo la... come si chiama? il gigante rosso sono fermo dove cacchio sono andato? mi sono perso l'altra frase che dice dov'è? io non ce l'ho a sta parte l'ho saltata ah non lo trovo allora questo è il tema del discorso è praticamente ho la tipa serpente che si sta mangiando il marito e mi dice sempre aspetta aspetta ho ritrovato ho ritrovato come si chiama? come si chiama? Pacis che mi ha dato delle nacchere da dare alla tipa però dice non me ne faccio niente mi sa che era dovevo dare prima di ammazzare il tipo però non so come andare l'igiene del gigante il gigante l'idea l'idea esatto e poi ho dato il libro a quello del fuoco e ho scoperto che radagon e marica ma è marica chi è? non lo so e glielo ho detto al tipo imbalsamato però non riesco ad andare avanti nel senso vedo il territorio lì ma non riesco ad arrivarci non so come arrivarci dopo comunque sei il tempo che provo viene a aiutarmi perché infatti sto rigirando tutto il mondo perché non riesco ad andare avanti più che altro mi annoio voglio uccidere qualcuno ho rifatto tutte le fogne perché non sapevo cosa fare tema del discorso bla 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 e bla 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 sì va bene grazie intanto qua abbiamo quasi finito Yosuruni 3 poi c'è Yosuruni qua sta spiegando quello che ha fatto prima infatti qua non ci sono domande perché è una spiegazione Yosuruni Yosuruni Mushiro Tsumari Noyona Kotova dopo queste parole dopo queste parole adesso è partito quello a pulire il prato Ishano Omoe viene descritto non so se si sente che stanno spazzando quello che pensa chi scrive bene avanza lo faccio anche sto pezzo qua allora Shijigo Shijigo cos'è? dimostrativo? qui l'ordine che l'altra volta me li metteva al contrario comunque unità 3 faccio anche questa tanto è una spiegazione cioè che poi questa roba qua me la doveva fare all'inizio non dopo infatti poi questa parte la metto davanti perché ho scritto 1 2 3 ma questa la faccio diventare 1 perché prima mi spieghi come fare poi me lo fai fare non che il contrario unità 3 Shijigo 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 no Shijigo qua il metto mettiamo anche noi che significa conosono hanno detto così è un po' brutto però yoga yoga no seri il modo di utilizzare le parole dimostrative il modo di ordine mettiamo serie e mettere in ordine ordine parole dimostrative riscrivo cono sono eccetera eccetera se non si capisce ok 1 tsukaikata modo di uso tsukaikata modo d'uso ko che sarebbe cono so vai che adesso fa gli esempi ko jibun no ryoki niaru ryoki è il mio range il mio spazio l'avevamo fatto anche l'altro giorno vediamo se esce naturalmente non mi esce il primo colpo ryoki scusate ryoki dovrebbe essere range il mio dominio la mia donna cioè mio allora come gli esempi sotto konobagu questo esempio qua fa gli esempi quindi faccio gli esempi che faccio prima konobagu ha furukute questa borsa è vecchia furukute boro boro è tutta rotta boro boro come le mie scarpe da che do ma agimete agimete all'inizio cicci cicci è papà cicci cicci opa boing boing katte moratta è la prima borsa che mi ha comprato mio papà mono mandes esatto esatto e quindi me la tengo perché me l'ha comprata il mio papà all'inizio poi questo è un esempio konobagu ve lo illumino poi però l'esempio c'è la mia borsa e poi due abbiamo mikamae tre giorni fa mikamae tre giorni fa ni se nikite è venuto in negozio uno magro nikite nikita jitsu jitsu in altre parole in verità konotoko questa persona konotoko di un caso jitsu a questa persona e qua lo mette come wadaish te irukoto parlare di un discorso non so perché mi sta spiegando sta cosa qua jibung ga chokumen ste irukoto kodomo no nakikata io faccio gli esempi e basta kodomo no nakikata il modo di parlare del bambino nakikata che non uscirà mai il modo di piangere gafutsu futsu è normale futsu de wanakata non era normale il modo in cui piangeva il bambino kore wa qua usa kore al posto di cono ma è la stessa cosa kore wa tada cioè la stessa cosa nel senso si usa con gli oggetti tada soltanto no kaze kaze de wanai to tugu akata ho capito che non era un normale influenza questa non è una normale influenza poi igno è di care no igno dovrebbe essere indicato aspetta che non so scrivere citare referenza fai la referenza poi allora abbiamo o shi goto wa il lavoro non ce l'ho più o shi goto wa punto di domanda kingio 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 è il vicinato che non si fa mai cazzoi no ito ni e ko kikare mi chiedono così mi chiedono questa cosa ko kika veru ho sbagliato anche a kio ecco perché non c'è ko kikare mi chiedono sempre questa cosa il lavoro non c'è scappato kikare ru tabi mentre me lo chiedono tabini tabini otto ste cure otto non ho capito otto i te cure cosa significa otto i te cure tomo ah otto i te cure l'ho letto male otto i te cure e lasciami perdere otto i te cure fatica tomo l'avevo letto male quindi sembrava otto i te infatti me lo spiega sopra otto i te lasciami stare ok mollami so ko quindi ko kore kono e ko kono kono e kore ko poi so abbiamo aite no vabbè la stessa cosa di prima okane okane i sordi de kaikezu si risolve tutto quei soldi kaikezu su reba i toyu quei soldi si risolve tutto anata anata no anata no sono kanga quel modo di pensare kanga e kata il modo di pensare ma è giusto lo dico sempre io ma ci gatti erutomo pensi di risolvere sempre tutto coi soldi quel tuo modo di pensare è sbagliato invece è perfetto direi ma facciamo poi agimete all'inizio agimete però non c'è il canji dovrebbe essere vabbè mettiamo senza ma dovrebbe essere quello qua agimete no tokyo tokyo non so scrivere tokyo de micini e questo si è perso ho scritto ma che è il posto di micini micini maiotte si è perso ma io te mi sono perso per le strade di tokyo sono tokyo in quel momento sono tokyo mici mici o osciete kureta no ga ima no otto des e se l'è sposato bravo così si fa mi ero perso a tokyo e quello che mi ha spiegato la strada è il mio marito attuale brava così si fa si fai finta di esserti persa così ti fanno un'ampa allora caccio 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 che è il direttore che da un po' che non c'era caccio caccia 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 l'azienda caccia è la verità fai anche tu così vai a tokyo fai finta di esserti persa e il giorno dopo sei sposato caccio yamiru yamirutte lascia la yamirutte sai che il capo lascia la società qua non c'è il kanji però sore quello sore che significa di solito quando trovate sore core è prima la risposta tranne quando io faccio il testo che lo mette dopo però normalmente la risposta è quello cioè nella prima lezione che abbiamo fatto dice quando c'è sore eccetera eccetera quello che stai dicendo cioè sore indica la cosa che dice prima quindi sore quella cosa che lui sta andando via non vedo l'ora onto no anashi deska è vero sore onto no anashi deska è una cosa vera non vedo l'ora anche tu vai a tokyo ti perdi e trovi la fidanzata anche tu o trovi il fidanzato anche tu quindi vedi tu vedi tu cosa preferisci natsu a beso de sugosuno in estate vai il beso è la villa al mare praticamente o la casa al mare natsu che io non ce l'ho quindi non ci posso andare natsu a beso beso che non so mai se si dice così si de sugosuno sugosu è passare vivere sugosuno punto di domanda watashimo anche anch'io vorrei una cazzo di doppia casa sonna sei cazzo anch'io vorrei fare quella vita quel tipo di vita sono sei cazzo gastaina vorrei fare quel tipo di vita io la ragazza con le bombe che sa cucinare esatto ma anche cucinare non puoi avere tutto dalla vita allora anche questo sonna è riferito a questa parte prima ok anche qua sono tokyo sono è riferito al fatto che si era persa per strana e questo sono kanga è riferito alla parte prima ricordatevi sempre core sore è sempre riferito alla parte prima mako approved esatto te lo dice mako sei a posto poi abbiamo a a chi sorriderò se non a te non mi fa scrivere niente salvo perché non mi sta facendo scrivere niente adesso esplode il pc anzi fammi controllare prima per sbaglio stavo stavo giocando con la 2060 sembrava che avevo un jet in casa no è tutto tranquillo siamo sotto i 50 gradi allora tranne la telecamera qua che schizza in maniera assurda trovami driver della c920 su fai il lavoro utile sì io non li ho trovati vorrei vivere anch'io in quel modo allora a che non sono riuscito a scrivere a a ok l'ho scritto ma non era tutto mi bastava la e basta a chi sorriderose non ha dei a futaride in due futaride mita ega il film che avete visto mita ega o voi vi ricordate il film che avete visto tutti e due no perché stavamo facendo qualcos'altro durante il film ano ega quel film ano ega mo ichido ancora una volta mo ichido mo ichido mitaina vorrei rivederlo ancora certo perché non stavate guardando il film due ano shiroi ano shiroi e kyokai quella chiesa bianca dovrebbe essere kyokai kyokai è chiesa vero mako? no yane però ecco il kanji di oshiroi ok allora è giusto yane quel tetto di quella chiesa bianca ga mie masca riesci a vederlo? sì e allora sali sopra e buttati mie masca oteru oteru wa asoko credo devi scaricare lo jite cave fa tutto dali eh lo so ma non voglio scaricare tutti sti programmi de mierda karat sugu edes lo installo e poi me lo installo e lo cancello è un unico soft è un unico soft c'è mille robe c'è c'è pieno di applicazioni e merda che non uso il pc diventa pesante ano shiroi hotel a soko karat su gudes da quella chiesa bianca cioè dal mio hotel è subito lì subito lì dove vicino a quel al tetto cioè alla chiesa bianca scarichi e aggiorni e buona al tetto bianco della chiesa vabbè scarichi e aggiorni e buona e poi cancello esattamente esatto quello che volevo fare kako e kaiso ahaga la mamma ahaga tsukutte kureta tamagoyaki che è quello che fa sempre mako tamagoyaki non mi esce mako non mi esce tamagoyaki tamagoyaki perché mi esce un cagno è questo quello giusto tamagoyaki noagi il sapore del tamagoyaki dovete vedere come mi fa mako il cuore sopra home rice è bravissima fa dei cuori fantastici che non mangio mai ketchup ma me lo mette solo per farmi il cuore sopra lì ed è fantastico prima o poi ve lo farò vedere su 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 cos'è che usi instagram nidoto taiken dekinai agaga tsukutte kureta tamagoyaki il sapore del tamagoyaki cioè che sarebbe semplicemente una frittata arrotolata tsukutte kureta che mi faceva la mamma non posso di nuovo assaporare quel tipo cioè non posso avere l'esperienza di assaporarlo di nuovo perché la mamma l'è andata molto bene kataci forma kataci forma kataci forma per gli amici o forma abbiamo a mono cose vabbè ci fa proprio la spiegazione quella che vi faccio che vi ho fatto vabbè mi sta va bene e niente facciamolo c'è nel libro io io mi fido del libro mi sta facendo la prima lezione monosimica cose vabbè vi scrivo cose dai cose cosa facciamo noi con le cose core sore are bi mi come facciamo con i luoghi dai mi sta facendo la prima lezione delle base cioè le so queste cose vabbè co co si vede so co qui la questa è la lezione dell'n2 a so co qui qui co e qua 5 direzione direzione co c co c co c so c a a c che sarebbero anche co c rà co c rà a c rà no so c rà e a c rà so c rà e a c rà ok questo vi ricorda qualcosa teoria sì perché ve l'ho spiegato anche a voi allora eeeh la dice poi eeeh si vabbè qua mette quel tipo di due eh sì la prima lezione o la prima o la seconda lezione qua niente mi mette tutto in in rosso non si sa per quale motivo è tutto rosso eeeh 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 dopo si usa dopo il nome eeeh eeeh o dopo il sostantivo come dice il nostro nostro amico ho scritto meiji ecco perché non è meiji no continuo a scrivere meiji eeeh eeeh suzuku 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 katachi dezukao da eeeh 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 niente non riesco più a scrivere... ... eeeh Poi qua avete l'altro che è quello che esprime condizione condizione o situazione e quello lì conna sonna perché non si usa mai conna sonna invece si usa tanto conna sonna e anna e quella ragazza con i capelli lunghi che abita di sopra non è vero non c'è nessuna ragazza che si chiama conoiona questo tipo di conoiona questo tipo di e se la stesso significato sonoiona quel tipo di e anoiona quel tipo di quel tipo là di non ci starò mai ok e qua fa gli esempi dai capelli rossi esatto anna dai capelli rossi laudiavo a morte ryoko ryoko ni shupatsu proprio laudiavo a sangue shupatsu shupatsu shio hai fatto bene volevo fare subito no ryoko ni shupatsu shio to you e volevamo partire per il viaggio sonna to ki in quel momento sonna to ki in quel momento kagite kodomo si è fatto la cacca d'osso kodomo ga yoku yoku nezu no ha avuto la febbre nezu o dash tari ha avuto la febbre da monoda cosa che ha trovato amore hai trovato una foto di mille anni fa cosa c'è dentro bene quindi scegli la ragazza che vuoi vuoi sposare tranne Mako naturalmente Mako l'ho già presa io queste sono le sue amiche io pensavo di averle sposate tutte poi mi ha spiegato che ne avevo sposata solo una si ma qua avevo dieci anni qua sei bellissimo si vent'anni fa no ma non faccio vedere le foto di vent'anni fa sono completamente diverse infatti a casa a casa mia ho trovato una foto di Mako quando l'ho conosciuta e gliel'ho fatta vedere su una polaroid con i capelli arancioni che adesso sembra seria ma non è mai stata seria ma quante foto hai? ma noi avevamo tutte ste foto quando eravamo ricchi ma cosa stai dicendo non litigavate c'era la bambina che voleva picchiare tutti vabbè niente Mako sta iniziando a dire beh un paio sono proprio top no vabbè non sono brutte infatti per quello te le ho fatte vedere infatti suo marito ah no suo fratello ha scelto tra una ma non tra queste vedi sempre andare al matrimonio degli altri sempre andare al matrimonio degli altri perché conosci ciao Fox S96 conosci sempre la moglie vabbè proprio in quel momento il bambino si è messo a piangere ciao Fox ha avuto la febbre eccetera eccetera poi l'altro esempio è Anoyona Kowaina Taiken quel tipo di esperienza bruttissima Anoyona Kowai c'è paurosa esperienza Taiken wa mo nidoto mo nidoto quando scrivono nidoto significa mo nidoto significa non lo voglio fare più non voglio averla più non è che la voglio fare la seconda volta stakunai cioè non voglio fare la seconda volta che significa non voglio farla più so imbiancare casa spero che basti per conquistarla so imbiancare casa spero che basti per conquistarla puoi fare quello che vuoi tu anzi si viene anche imbiancare la mia è un vantaggio in più ci metto una buona parola sono andato a comprare L acqua al supermercato e non avevo spicci per il carrello come un pirla ho dovuto desistere non ho la macchina devi prendere devi fare come faccio io quando ah qua era dalla finestra di Prada che salutavo Marco mille anni fa la tua è difficile perché sono muri da 7 metri XD è la mia alta mi ricordo che c'era anche Uvaccio nel nostro motino perché riabbronzate ti hanno sì perché perché riabbronzate allora ti hanno coperto ma non si vede allora verbi avverbi e aggettivi allora verbi avverbi aggettivi ce la faremo a finirlo sto coso allora doshi e verbi che yoshi e aggettivi che yoshi che non so scriverlo che yoshi e e e e e e 16 giugno a milano per una riunione su zuku katachi de kau usati dopo ah prima non l'ho scritto l'ho scritto prima no che non l'ho scritto niente usati dopo parole ma invece è usati dopo usati dopo cos'è che vedo che l'abbastanza gente chat quindi faccio la domanda chi c'è il 16 giugno a milano per la riunione e dopo metti e scrivi su discord così lo vedono tutti viene su foc non compro nulla non compro nulla io ci sono non viene per me ma che ho detto non vieni per me si che viene per te ma un concerto e già che c'è mia mamma ha tirato fuori delle foto dell'epoca della guerra no ma non mettere ste foto cioè che cosa dobbiamo mettere fammi andare avanti vengo ti porto il te seguite da verbi a verbi aggettivi vengo ti porto il te ma il te è vero il te non gliel'hai chiesto stavolta Marco o ce l'avrei ancora l'altro allora Yosu Jotai ancora situazione e condizione non Queen Fox si in teoria ha detto Queen che si organizza ora vedi ancora Fox è quello del disegno te lo dico tutte le volte si arriva da giù e viene qua al concerto e quindi ci si rimane poi sentiamo Proto e gli altri sicuro Proto c'è e anche Massi c'è ho ancora un parattolo però ti conviene scrivere su su discord 16 giugno e poi se me lo dici adesso giugno esatto dimmelo prima a giugno perché io mi dimenticherò sicuramente a situazione vabbè lui avvisa prima situazione c'è gente che lavora io no ma le altre sì situazione e condizione situazione e condizione ancora Conna Sonna Anna Ni Conna Ni no cosa sto dicendo quindi il 15 mattina o pomeriggio ci sono pure è giusto Conna Ni Conna Ni Non mi ricordo cosa ho mangiato a colazione ricordarmi del 16 giugno è un po' difficile concerto di cosa esatto è quello che ho detto io il concerto dei Green Days potresti venire anche tu qui almeno ci si vede Gigi dalle note i Green Days dovrebbe essere ciao tab xd Anna Ni ma non è che andiamo al concerto lui va al concerto e già che viene su al concerto ci si becca anche perché tra poco Marco va a dire di nuovo sono Ioni non ho capito perché è tornata sinceramente hanno Ioni per lavorare Otosan 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 Non ti devi arrabbiare così ma papà non dovresti arrabbiarti così non dovresti arrabbiarti in quel modo poi abbiamo coso a no a a chi sorriderò se non a te Marco mangia quel cazzo che vuoi pensi solo a mangiare io pensavo che tornavi vestita da cosplay invece niente grido non me ne frega molto se cantano prima i gridei finiscono loro ed io me ne vado a me ne vado allora Ano Ito Wa Itzumo Ano Ito Wa Itzumo quella persona sempre io l'ultimo concerto che ho visto dal vivo era Lenny Kravitz ma mille anni fa no ah no non è vero l'ultimo concerto che ho visto a Ragione Maco che l'ho visto con lei è stato quello che cantavano le canzoni degli anime il come si chiamano non erano i Jane Project si forse erano i Jane Project no però cantavano tutti i canzoni diversi c'era i Chiro Mizuki quello che cantava One Piece e due tipe e un altro quello dei Cavaliere e lo Zodio e poi ho fatto come uno straniero che sono andato davanti a tutti senza tenere il mio posto perché sono avanti ma hai visto un concerto bene Ano Ito Wa Itzumo quella persona sempre a Ieba se parli di quello Ieba non ho capito Blanco 87 Lord Blanco 87 questo è il mio primo non ho capito Iwake Iwake scusa Iwake Baccari dice solo scuse Baccari Eshte Iru Yoda lui sembra che dice sempre scuse tipo Ayeba Koyude non ho capito comunque dice sempre scuse questo o quello questo o quello se fosse è quello lì è cosa Iwake Iwake Baccari Steiru Yoda lui è sempre uno che dice tante scuse poi 3 Bun Chude no Ichi non ho capito la posizione all'interno del discorso quando parte Mako Mako parte a luglio Fox S96 e dai così mi dici se ne vale la pena 3 Maini detà no aspetta ho sbagliato Bunciu Bunciu è all'interno del discorso no? Bunciu De No Ichi che posizione posizione all'interno del discorso interno discorso Lord Blanc 87 spero di sì ho speso un quinto del bonus cultura per sto concerto Maini allora uno Maini qua non so perché mi sta scrivendo tutto in grassetta facciamo così in rosso non so per quale motivo allora Maini Maini detà Goku Goku ma è quello di Yan Naio Goku è parole o frasi Naio o Sasu indicare parole o contenuto Sasu vai ok Maini detà indicano indicano parole o contenuto precedente vedete che quello che ho detto io che è quello che poi sbaglio sempre un esempio One Watashi Watashi no missu per colpa mia siete tutti senza lavoro siete contenti De Shiai Shiai ni ma che te scimata per colpa mia abbiamo perso l'incontro sei di sei verrai trattato come una merda per sempre Nande Nande perché Nande Nande darò Nande bonus cultura l'avrei preso ad Amsterdam sulle Simba vabbè ti ricordo Queen che ci sono anche delle signorine qua allora Nande tipo questa guarda che guarda che signorina che c'è qui Nande con Namisu questo tipo di errori con Namisu o Stano Ka perché ho fatto questo errore I don't know Kuashiku Te Shkata Nae Kuya giusto infatti non usciva il kanji Kuya Shikute Kuya Shikute Shkata Ga Nae non posso Shkata Ga Nae non posso farci nulla se sono cioè se mi girano di Maroni come ho fatto a fare questo tipo di errore non posso farci nulla se mi girano i Marones poi Kona va cioè praticamente questa parte qua avere perso per colpa sua l'ingondro Ahawa Ahawa è la mamma la mimami Ahawa Ahawa Furuimono come me le cose vecchie Furuimono Furuimono Demo Taisezu anche le cose vecchie ci tiene come me Taisezu Nizu Katerone le usa Katero usa le cose vecchie Sonahaha quella mamma quel tipo di mamma Sonohaha Sonohaha naturalmente indica sopra vai che te l'ha detto posizione indica parole o contenuto precedente c'è scritto sopra non fatemelo ripetere di nuovo che mi nervosisco Ani Kutsu Kutsuga Oshi vuole le scarpe Oshi Toa Yenakata non potevo dire alla mamma che volevo le scarpe nuove infatti non le avrai Sonohani Kutsuga Oshi a quella mamma non potevo dire che volevo le scarpe nuove esatto Terebi Terebi Bangumi programma televisivo Terebi Bangumi De O Mori O Mori è piatto di curry incredibilmente pieno no Kare Kare Omite ho visto un piatto pieno di Kare alla televisione alla trasmissione televisiva Anna Anna Rio quella quantità Anahua Itoride da solo Itoride Taberare Naito Omo non penso di poterlo mangiare da solo ma nessuno te l'ha chiesto Taberare Naito Omo penso di non poter mangiare quella quantità da solo ma nessuno te l'ha chiesto Anna Rio indica la quantità che ha visto nel piatto di Kare nel programma televisivo altro esempio ah e vedi 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 che c'è anche indica il dopo vedi è lì che mi ha fregato perché anche l'altra volta pensavo prima invece la risposta era dopo qua indica parole mettiamo lo spazio inseriamo se non si capisce un cacchio forse no così no così cosa vedi 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 invece prima mi ha solo spiegato che indica davanti per me era invece uscire onimo vedi qua invece dice il contrario dietro eh però io come faccio a capire se indica dietro davanti cosa sono usciro ni de tam qua la differenza che ha il posto di davanti si mette de retro usciro usciro dietro indica parole contenuti successivi o dietro come volete voi o toko wa l'uomo o toko wa doa o shime na gara mentre la persona stava chiudendo la puerta dovrebbe essere questo koita ha detto così e vabbè ma qua è diverso koita punto matakuruse matakuruse verrà ancora su toronzi matakuruse matakuruse verrà ancora ed è una minaccia matakuruse io parto l'11 luglio in giappone riu vai in giappone si beh ma riu il libro qua sta finendo no ma lui va per studiare in giappone e vabbè mi sono sconfuso dovevo scriverlo su discord no veramente ha chiesto a me come facevi tu per andare in giappone gli ho spiegato che facevi scala franco furto che bello matakuruse vengo ancora fraipan furai pan che è la padella la friggitrice fraipan fraipan cioè la padella sì quella per cucinare nezzuste nezzuste non è che la padella ha la febbre la padella è calda nezzuste ichido ichido una volta ichido io che sta io ho spento il fuoco io che shimasu quando la padella è bella bollente per una volta spengo il fuoco che non esce che shimasu spengo il fuoco kokoni in quel momento è proprio lì kokoni ma perché qua indica posizione 5400 euro che se sono andati solo per la scuola kokoni narabete narabete ho messo ma adesso vuole mangiare il chiosa karà mata izuketa dopo aver messo in fila gli osa ho riacceso il fuoco io izuketa beh ma qua si capisce che che è in ordine il problema è che nelle frasi complesse che mette nino si capisce kokoni 5400 euro che se ne sono andati solo per la scuola ma non per il viaggio no ma anche voglia sapere il viaggio quanto è pagato anna kakode sotto a arukenai in quel anna kakode vestito così non posso camminare fuori kakko io invece vado anche il pigiamo kakode beh a luglio ma questo sarà un bordello kakode anche perché c'è la gente che va in vacanza soto na fucuso mi sono messo un vestito sutorano no ito ga acci coci qua e là acci coci ni iro ci sono persone strane qua e là tomo yona fushigina allora mentre allora pensavo non posso camminare in giro vestito così e mi guardavo qua e là e ho visto un sacco di persone vestite strane però yona cotomo yona tomo no ah no guardava le persone vestite strane qua e là e non pensava che si sarebbe vestito come loro per andare in giro ok adesso ci siamo però qua e per forza dopo lo scrivi all'inizio della frase poi sono ito ga quella persona sono ito ga quella persona ajime te all'inizio ajime te che è quello di ajime master ve lo ricordo sempre omise la prima volta omise ni kitanoa kitanoa la prima volta che lui è venuto in negozio è andato in negozio fuyu fuyu che significa inverno no samui hi era un giorno fureddo d'inverno samui hi i i i i i i e no koto no koto deshta era un giorno freddo d'inverno come sono romantico poi usciro ne ho fatto usciro ne ho fatto mai ni usciro ne mo akirito arawarenaiba wai è che quello che succede sempre a me è sbaglio non è chiaro se è davanti o de retro mai ni mo né davanti né dietro mai ni mo usciro ni mo usciro ni mo akiri akiri si vede decisamente qua arawarenai non si mostra arawarenaiba hai in caso non si capisce se è né davanti né dietro non in caso non si capisce chiaramente se è davanti o de retro ok se è prima o dopo sarebbe prima o dopo prima o dopo ok allora esempio arubaito arubaito che è parto time arubaito anche io voglio fare arubaito arubaito o steiru le persone che fanno parto time mi sede pensavo che volevo aprire una sala di lan e peccato che le hanno chiuse tutte proprio quando voglio aprire chumono macigate macigaete ho sbagliato scusate ho sbagliato ordinare chumon macigaete scimatta albaito non mi sede ho sbagliato a prenderlo ordinazione ho fatto tocoro ga comunque tocoro ga sono chiacu quel cliente sono chiacu sono chiacu san wa mataku non se ne è accorto mataku okora nakata non si è arrabbiato perché ha capito che sei un coglione e qua dice quel cliente quel cliente non si è arrabbiato però perché c'è tocoro ga cioè quello che è tocoro ga non è sono non c'è tra niente vabbè quel cliente non si è arrabbiato aremo tabetai voglio mangiare anche quello aremo tabetai e mangia tv capitone coremo oishì anche questo se è buono oishì so anche questo sembra buono oishì so anche questo sembra buono to kekia kekia è la pasticceria o la torteria non so se si dice torteria ma penso che sia la pasticceria kekia no showcase ciò ciò che su che è la vetrinetta dovrebbe essere no mai gli sbavavo davanti alla vetrina de naiami naiami essere confuso su zuketatsu zuketai ho continuato a essere confuso cioè non confuso su pensavo a se gli voleva una roba l'altra davanti alla vetrinetta del del coso mi piace voglio mangiare questo mi piace anche questo io li compro tutti così hai risolto il problema anani kuro oste zukute iru towa ci metti così tanto a farlo anani kuro è impegno anani kuro oste zukute iru towa lo fai mettendoci così tanto impegno shokunin shokunin è mia moglie indeciso shokunin si maio vuole essere indeciso shokunin shokunin san è il lavoratore no shigoto shigoto ba il posto di lavoro o miru made fino a che non ho visto il suo posto di lavoro made wa wa karanakata non l'ho capito wa karanakata che ci voleva così tanto impegno wa karanakata mia moglie sta già preparando io non ho ancora finito fai un po' quello che vuoi fammi vedere cosa mi manca mi manca ah no finito niente ho finito adesso shokunin shigoto ba miru made wa karanakata che ci metti tutto quell'impegno per farlo non l'ho capito fino a quando ho visto il posto di lavoro dell'artigiano del lavoratore questo qua shokunin san è quello che lavora ok niente abbiamo imparato un sacco di cose belle anche cose che avevo insegnato nella prima lezione per i principianti siamo tutti molto felici e niente però ripeto questa parte qua per me la doveva spiegare prima che facevole il testo così avrei avuto anche un po' cioè sarebbe stato più facile però va bene lo stesso quante pagine mancano? tantissime mi sa che l'ultima parte è quella di moghi testo e questo qua sono i miei questi qua li faccio quando ho finito il libro ripeto il libro e poi faccio velocemente queste cose qua come se fosse un test vero quindi sono 60 pagine non manca tanto dai tendo a conto che faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ho fatto 6 pagine ho imparato che un Giappone fai finta di perderti e trovi la moglie anche oggi ho imparato che un Giappone fai finta di perderti e trovi la moglie vedi che impari sempre cose nuove nelle lezioni tu fai finta di perderti a Tokyo e hai trovato marito o moglie dipende da cosa preferisci il resto è per i studiosi il resto lo lasciamo agli altri esatto diglielo qui l'importante è che hai capito il succo della lezione era quello comunque grazie Queen grazie Yves grazie Ryu grazie Massi e niente ci si vede dopo che continuo a provare a perdermi che non so andare avanti nessuno mi vuole aiutare e come al solito Goshi che grazie per avermelo visto e sentito e ricordatevi che ci si vede ban presto come dicono sempre alla Bandai ma la Bandai non mi vuole assumere grazie a te ciao a tutti tanti abbracci buon appetito a tutti e ci si vede ban presto bye bye e Marco cosa vuole dire cosa sta cucinando cosa stai cucinando Marco se non lo dici Yaki Onigiri sta facendo Marco quello che abbiamo mangiato a casa di Proto però lo sa solo Massi cosa abbiamo mangiato a casa di Proto Proto non c'è eh non c'è a dopo bye bye Massi dice ciao Marco li voglio anch'io se vieni fra 5 minuti sì se no sono già finiti Zanendez bye bye booooi booooi